Bene, buongiorno, benvenuti all'ultima conferenza stampa del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, conferenza stampa promossa dall'agenzia stampa NEV che si occupa dell'ufficio stampa del Sinodo. Volevo ringraziare Radio Bequita Evangelica che trasmette in streaming e alla radio questa conferenza e Radio Voce della Speranza che ritrasmetterà il contenuto. Oggi chiudiamo con il moderatore Eugenio Bernardini, lo ringraziamo per essere qui con noi. Ha appena concluso il discorso di saluto al Sinodo, viviamo in tempi difficili ma non abbiamo perso la speranza. Questo è un po' il tema di oggi e Dio ci dà speranza che è anche il titolo ripreso dalla settimana dell'Evangelizzazione. Quali sono questi tempi difficili e qual è stato il messaggio che ha voluto rivolgere al Sinodo? I tempi difficili li viviamo tutti nel nostro Paese e in Europa, basta vivere nelle nostre società per rendersi conto, anzi credo che intorno a noi ci sia qualche volta addirittura una cappa di rassegnazione. Io ho voluto da una parte incitare le nostre Chiese a riconoscere questa realtà senza false illusioni, con molto realismo, ma senza per questo farsi abbattere, rassegnarsi, deprimersi, ma piuttosto mantenendo in modo lucido la consapevolezza che dobbiamo cercare soluzioni e anche soluzioni nuove per i nostri problemi comuni. Lo devono fare le nostre società, coloro che hanno compiti decisionali, lo devono fare anche le Chiese cristiane, in particolare quelle di più antica istituzione, con le radici più antiche in Europa e in Italia, perché in un panorama che sta cambiando prepotentemente, e sta cambiando anche nei suoi riferimenti fondamentali, anche le Chiese cristiane devono ricostituire un orizzonte di riferimento nuovo con capacità di comunicazione e di linguaggio e forse anche con una modalità di presenza nuova in questo Paese e in Europa. Sono stati molti i temi all'ordine del giorno e approvati anche appunto in queste ultime ore soprattutto. Uno in particolare è quello legato alle guerre e ai conflitti. Nel suo discorso lei ricorda uccidere, violentare, torturare nel nome di una fede e un abominio e tutti noi dobbiamo denunciarlo come tale, come un peccato blasfemo che offende il volto e il cuore di Dio. Questo messaggio? Noi abbiamo vissuto in Europa secoli bui, in cui i punti di riferimento che oggi sembrano essere quelli di questi guerrieri che vediamo nei video che loro stessi mettono su internet e noi valdesi e anche metodisti in una certa misura abbiamo subito l'impeto nel passato di questi guerrieri per cui sappiamo che cosa comporta questa violenza, sappiamo che da questa violenza non nasce nulla di buono e men che meno questa violenza è giustificabile con un qualsiasi riferimento a Dio, a un Dio o a delle scritture perché nessuna delle scritture rivelate, ebraica, cristiana e islamica, in realtà propongono questa modalità. Ritengo che uno dei compiti principali delle istituzioni cristiane, delle chiese, sia proprio di ricordare questi secoli bui per invitare tutti a non ripercorrere le stesse strade sbagliate, non ricommettere gli stessi errori e contrastare quello che ho definito un virus dei fondamentalismi che può rinascere sempre e ovunque e anche in Europa conosciamo in realtà questo virus perché qualche episodio e qualche segnale lo viviamo anche da noi. Insomma, non è solo un problema di paesi lontani o vicini, ma è qualcosa che abita anche in casa nostra per cui la vigilanza deve essere costante. Non siamo qui per insegnare da bravi maestri, ma siamo qui per prenderci le nostre responsabilità di cristiani, soprattutto in questo campo. Questo è stato un sinodo anche molto attento alla dimensione ecumenica, ma anche all'evangelizzazione, poi è arrivato anche il messaggio inaspettato di Papa Francesco. Sì, più che un messaggio io l'ho definito un pensiero, un bel pensiero di fraternità che ci è giunto attraverso il Vescovo di Pinerolo, dalla Segreteria di Stato, un messaggio che abbiamo apprezzato, anche perché è un altro segnale dei vari che abbiamo avuto da quando Monsignor Bergoglio è diventato Papa Francesco e già dal nome che ha scelto, che nessun Papa in precedenza aveva osato scegliere, ci siamo resi conto che qualche novità sembrava proprio esserci. I segnali successivi ci hanno confermato in questo e il sinodo ha raccolto questi segnali e anche il messaggio che abbiamo avuto quest'anno da parte del rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Bianchi, Mansueto Bianchi, che non solo ci ha portato un saluto di fraternità, ma è entrato anche nel dettaglio di terreni sui quali si potrebbe verificare la possibilità di dire una parola comune e anche di praticare qualche terreno sul quale la responsabilità delle nostre chiese si potrebbe esprimere in modo fraterno ed ecumenico. Sono segnali che noi apprezziamo e che ci impegniamo a verificare e anche a ricambiare. In un quadro in cui dobbiamo ricordare la presenza anche delle molte altre chiese evangeliche sorelle e anche di un panorama, come dicevo, religioso variegato, per cui indubbiamente qualsiasi riflessione o proposta che facciamo sappiamo che si deve situare tenendo presente che ci sono altre identità in questo Paese che con noi potrebbero almeno fare una parte di cammino. Un altro dei temi importanti che non potevano mancare al sinodo, che è attento ai temi dell'attualità, è la questione legata ai migranti. Si legge nell'ordine del giorno l'importanza del progetto Mare Nostrum, ma si è parlato anche del progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Mediterranean Hope, che tra l'altro è sostenuto con i fondi 8 per 1000 dell'Unione delle Chiese Metodiste Valdesi. Il compito dei governanti è quello di trovare delle soluzioni concrete ai bisogni e ai problemi. Il compito delle Chiese è quello di indicare bisogni e problemi a chi governa facendo la parte più specifica che compete alle istituzioni religiose. Noi abbiamo voluto sottolineare anche in questo sinodo l'urgenza di trovare una risposta comune come Europa a un dramma che non è momentaneo, che non dipende soltanto dalle guerre nei paesi del Nord Africa, in Libia in particolare, oppure dalle guerre fratricide in Siria o in Iraq o dai suoi movimenti politici che continuano ad essere in paesi come l'Egitto. Noi abbiamo la sensazione di un cambiamento epocale in cui i popoli del sud del mondo premono sulla frontiera del Nord del mondo, e ce ne sono almeno due, il Mediterraneo è una e l'altra è la frontiera meridionale degli Stati Uniti, dove non c'è mare o barriera o muro che tenga. Non si può pensare che con provvedimenti di ordine pubblico, di polizia, si possa risolvere una situazione di questo tipo. Mare Nostrum è un'operazione di soccorso in mare che noi abbiamo sempre considerato positivamente, perché i risultati positivi ci sono, ma quello che continuiamo a chiedere ai governanti è di non avere una vista miope. Dobbiamo cercare di affrontare un problema globale, intanto con l'urgenza di dare delle risposte di soccorso, poi aiutando le società dei luoghi d'origine delle persone, dei migranti che si spostano. Insomma, bisogna fare la propria parte. Noi, come Chiese, naturalmente siamo impegnate, come è nostro dovere, parte della nostra identità, nel soccorrere il bisognoso. La parabola del buon samaritano è stata insegnata da Gesù non per caso, ma non ci accontentiamo di questo. Vogliamo anche essere sicuri che l'informazione e la comunicazione su questo fenomeno sia fatta in modo corretto, per cui sosteniamo l'osservatorio che è stato messo da poco tempo a Lampedusa, uno dei punti non solo simbolici ma anche fattivi di questo tipo di problematica e soprattutto noi indichiamo la necessità urgente di affrontare in modo globale questo problema. Fa parte delle responsabilità sociali che una Chiesa cristiana non può che avere. L'anno scorso aveva introdotto il concetto di protestantesimo liberal e lo ha ripreso quest'anno. Sì, io credo che lo riprendo perché non è molto in uso nel nostro paese, eppure quando io frequento le chiese protestanti in Europa o negli Stati Uniti mi rendo conto di appartenere a una famiglia molto più grande che nel corso dei secoli è stata parte importante della formazione della cultura occidentale, della migliore cultura occidentale, quella dei diritti umani, quella dei diritti degli altri, quella della libertà di coscienza, quella della tolleranza, quella della ricerca di strumenti diversi da quelli violenti per la risoluzione dei conflitti e via dicendo. Dico parte nel senso che ci sono state anche altre culture, anche non religiose, che hanno costruito la migliore cultura e anima europea. Io credo che nell'attuale panorama mondiale di questo tempo bisogna ribadire con forza la necessità che le chiese cristiane si mantengano su questo discrimine. Invece osservo che ci sono delle pulsioni autoritarie e fondamentaliste anche nelle chiese cristiane, nel mondo protestante e evangelico senza dubbio, ma anche nel mondo cattolico e anche nel mondo delle chiese ortodosse. Questo mi preoccupa perché la risposta ai problemi mondiali non può venire da atteggiamenti autoritari e di chiusura, che poi producono risposte violente e aggressive, ma al contrario dà il tentativo di trovare delle risposte comuni, responsabili e solidali. Perché le altre risposte in realtà tendono a soffocare i problemi fino a quando questi riesplodono più violenti che mai. Noi siamo, come chiese metodiste valdesi, chiaramente schierate in questo campo e dobbiamo fare la nostra parte perché questo campo diventi sempre più largo perché l'umanità ha bisogno di risposte di impegno, di responsabilità e di equilibrio come quella che è rappresentata nella nostra tradizione. Un'ultima domanda prima di dare la parola ai colleghi giornalisti. Questo agli occhi, diciamo, esterni ma anche interni può essere sembrato un sinodo leggermente più morbido di altri sinodi in passato che ha dovuto affrontare decisioni importanti. Ricordo la benedizione delle coppie omosessuali, ma questioni etiche e bioetiche. Si può dire che questo sinodo in realtà è servito per monitorare il lavoro avviato che porta avanti i progetti e le iniziative del passato? Sì, un sinodo nelle nostre chiese è sempre un corpo vivo fatto da un insieme di presenze che partecipano alla discussione comune con la sensibilità anche umana del momento. Credo che quest'anno abbiamo avuto tutti la percezione del momento che stiamo vivendo. Da una parte di difficoltà, di transizione anche culturale nella ricerca di risposte nuove, insomma un momento di grandi difficoltà in cui i segnali di ripresa, di fiducia, di tentativo di percorrere delle strade nuove sono molto presenti, ma non ci vogliamo illudere. La svolta forse non è proprio dietro l'angolo, si tratta di costruire, di edificare e in questo i toni forse più meditati e fraterni sono più utili di quelli della contrapposizione magari appassionata che in certi momenti un po' meno difficili ci siamo potuti permettere. Senza dimenticare, citando le sue parole, la nostra responsabilità sociale come chiese, cristiani e protestanti. La parola ai giornalisti. Vediamo se ci sono delle domande. Diego Meggiolaro, Radio Beckwith. Lei è stato eletto moderatore al termine del sinodo dello scorso anno, è stato riconfermato quest'anno. Che bilancio fa di un anno di lavoro? E poi uno dei passaggi più interessanti del suo discorso, secondo me è stato noi siamo una chiesa che dobbiamo amministrare quello che abbiamo con la prospettiva del futuro. Come si può sviluppare questo discorso? Io sono grato all'esperienza che mi viene consentita di fare perché viaggiando, conoscendo tanti contesti in Italia e anche all'estero, ho la possibilità di inquadrare tanti problemi che noi avvertiamo in modo particolare nella nostra situazione locale in un contesto più ampio. Sento anche la responsabilità di dover condividere, restituire questa possibilità che mi viene offerta. E quando, ripeto, che non siamo scoraggiati, non lo faccio perché sono un predicatore e quindi devo incoraggiare. Oppure, nel mio ruolo, mica posso affossare la fragile barchetta. Lo faccio perché, andando in giro in Italia e in Europa, dentro e fuori delle nostre chiese, osservo, sperimento, appunto, queste volontà di ripartenza provando a sviluppare progetti nuovi. Quest'anno ho avuto delle esperienze interessanti, per esempio, in campo cattolico, ho partecipato all'incontro internazionale che ogni anno organizza Sant'Egidio a Roma e ho potuto incontrare molte persone, anche Papa Francesco, e negli incontri ho trovato responsabilità, impegno, volontà di dialogo tra persone di contesti culturali e religiosi anche molto diversi. Ho potuto viaggiare in Europa, in Svizzera, mi sono reso conto di quanto forti siano i processi di secolarizzazione, ma anche la ricerca di dare delle risposte nuove rispetto alle organizzazioni che dai tempi della riforma si erano create, si sono create in questo Paese. Sono stato negli Stati Uniti dove sono rimasto veramente colpito dalla capacità di alcune chiese protestanti di parlare in modo moderno agli americani di questo tempo che sono persone che quando fanno delle domande si aspettano delle risposte. Anche noi, ma loro di più. E le chiese hanno capito, alcune chiese hanno capito, che alle risposte dei problemi alle domande che vengono rivolte loro oggi non possono spesso dare le risposte con le parole di ieri o con le modalità di ieri. E quindi ci sono dei programmi, dei progetti molto interessanti. Questo è quello che io cerco di restituire con un senso di fiducia perché vedo che ci si sta muovendo, che la direzione c'è nonostante che il quadro non sia affatto semplice per le società e anche per le antiche e scricchiolanti perché lo sono antiche istituzioni cristiane. Prima di dare la parola lei ha parlato di saper comunicare nel suo discorso tra l'altro è saltato fuori anche il nuovo progetto della comunicazione del portale riforma e del settimanale riforma. Se ci vuole dire due parole prima di dare la parola ai giornali. Noi siamo in una situazione di sofferenza della comunicazione tradizionale un po' in tutto il mondo. In Italia lo si avverte i quotidiani, i periodici, i libri. la comunicazione che immediatamente ti invita all'approfondimento è in difficoltà. In crisi economica ci sono riduzioni, tagli, proteste, testate che chiudono anche nella comunicazione religiosa. A livello ecumenico per esempio sono vari anni che agenzie di stampa quotidiani e periodici religiosi chiudono. Tentano qualche cambiamento ma chiudono. Si sta sempre di più imponendo la comunicazione via web tramite internet che ha i suoi pregi ha i suoi difetti ha i suoi linguaggi. Possiamo rammaricarcene oppure possiamo affrontare la situazione mettendoci alla prova e quello che stiamo cercando di fare abbiamo deciso di fare con questo progetto che avrà uno sviluppo soprattutto sul piano della comunicazione web via internet che noi vogliamo essere rapida efficace possibilmente contenendo il difetto tipico di questa comunicazione che è la superficialità la rapidità vorremmo che non fosse superficialità io l'ho detto anche nel mio discorso per avere udienza sociale bisogna essere credibili non bisogna fare rendere cioè far facili le questioni complicate però bisogna saperle comunicare bisogna che impariamo spiegarci il messaggio cristiano è stato all'inizio un messaggio verbale è stato un movimento di comunicazione straordinario evangelo significa buona notizia le notizie sono quelle del telegiornale sì ma sono anche le notizie che danno senso alla nostra vita l'evangelo è una buona notizia quindi la comunicazione è parte integrante dell'identità cristiana bisogna che noi utilizziamo strumenti nuovi mantenendo il meglio degli strumenti vecchi e la carta aveva proprio questa funzione la carta stampata che è stata la grande rivoluzione che ha consentito al protestantesimo tra l'altro di affermarsi e noi vorremmo cercare di portare umilmente in questa nostra esperienza questa caratteristica grazie mille io raccoglierai se ci sono più domande magari le farei tutte insieme per dare poi per fare le conclusioni al moderatore Bernardini prego Alberto Corsani riforma nel suo discorso ha fatto riferimento alla importanza di coinvolgere in qualche modo di raggiungere altrimenti e ulteriormente le tante le decine di migliaia di persone che scelgono di destinare alla Chiesa Valdese il loro 8 per 1000 ecco su quali terreni e con quali strategie si possono coinvolgere e raggiungere queste persone grazie ci sono altre domande se noi diamo la parola ecco prego Marta Dauria settimana alle riforma e come anche la domanda precedente l'attenzione degli italiani cresce verso la Chiesa Valdese attraverso anche la firma dell'8 per 1000 nel suo discorso lei ha ricordato due parole importanti contenute in una antica confessione povertà e piccolezza ecco come si tengono insieme come si tiene aperta questa dialettica tra appunto risorse grandi risorse povertà e piccolezza raccogliamole tutte insieme prego armando ecco del chisone la mancanza di consacrazioni pastorali è un fatto nuovo vi preoccupa pensate che in un futuro ci sia una ripresa anche di questa vocazione e un'altra domanda anche parlava di unione di chiese chiesa valdese metodista c'è la possibilità di altre chiese evangeliche che possono unirsi a voi e ponersi in un unica chiesa altre domande se non ci sono domande diamo la parola al moderatore Bernardini ci sono state tre anni fa 613 mila contribuenti italiani che hanno scelto di destinare alle chiese metodiste valdesi l'otto per mille un numero importante in crescita da parecchio tempo noi abbiamo cercato di fare delle ricerche per cercare di capire le motivazioni di questa crescita costante che stiamo ricevendo una crescita di fiducia abbiamo delle idee sulle motivazioni di questa crescita di questa responsabilità che ci viene data ma ci siamo anche chiesti se non si tratti anche di un segnale di interesse non soltanto per il modo con cui gestiamo questa somma queste risorse che derivano da una percentuale delle tasse degli italiani cioè noi restituiamo come usiamo dire tra virgolette restituiamo in servizi educativi culturali sociali sanitari agli italiani e a tante popolazioni in paesi anche molto lontani da noi del mondo queste somme sicuramente questo è un motivo cioè non lo utilizziamo per fini di culto principalmente per fini di culto e di religione ma ci siamo chiesti se non ci sia anche un interesse più di tipo spirituale una curiosità una ricerca anche di una casa cioè di un luogo in cui condividere una quotidianità che a volte è un po' senza orizzonti senza novità fatta di un tran tran anche spirituale insoddisfacente e allora abbiamo provato a incontrare in alcuni luoghi d'Italia i contribuenti organizzando degli incontri aperti in luoghi anche non non religiosi pubblici invitando le associazioni che sono partner con noi di questi progetti di solidarietà e abbiamo intenzione di continuare in quest'opera proprio per verificare se insieme a questo riconoscimento di fiducia per il modo con cui utilizziamo queste somme non ci sia anche la possibilità per noi di offrire una migliore informazione su che cosa siano le nostre chiese come vivono effettivamente la loro esperienza comunitaria dove è possibile incontrarle che cosa si può condividere con noi noi lo facciamo con il nostro spirito tradizionale di disponibilità di apertura senza aggredire nessuno senza obbligare nessuno invitando liberamente entrare anche uscire come si crede ma verificare se per caso nelle nostre chiese qualcuno o qualcuna non possa incontrare un luogo una casa delle altre persone con cui condividere almeno una parte della propria vita e delle proprie esperienze quindi le prime esperienze sono andate molto bene sono nate delle relazioni nuove io ho incontrato personalmente delle persone che mi hanno detto è la prima volta che incontro un valdese oppure frase che realmente sento ogni tanto ma sa voi non sembrate una chiesa e devo dire che mi piace perché noi vogliamo vivere una chiesa che sia una comunità fraterna calorosa aperta e non un'istituzione religiosa fredda e lontana se le persone dicendo questo scoprono una diversità beh a me fa piacere e io mi auguro che con questo possiamo rendere un servizio gratuito senza utilizzare fondi dell'otto per mille per dare questa possibilità a un paese che ormai è diversificato sul piano culturale sul piano religioso sul piano spirituale sul piano anche delle scelte etiche per quanto riguarda l'altra domanda coniugare povertà io ho parlato del fatto che siamo una chiesa povera lo ripeto spesso con le risorse che provengono dall'otto per mille e lo ribadisco anche in sinodo tra l'altro lo abbiamo rilevato qualcuno ha parlato di schizofrenia siamo una chiesa che fa fatica a chiudere i propri bilanci per quanto riguarda le attività religiose di culto di evangelizzazione di catechesi di testimonianza di missione e dall'altra amministriamo una somma che è intorno ai 40 milioni di euro l'anno scorso e quest'anno appunto sostenendo dei progetti di servizio io mi sono richiamato alla confessione di fede della nostra chiesa che è quella del 1655 in cui si parla a un certo punto di povertà e piccolezza o bassezza cioè dei limiti che la nostra chiesa io credo che questa sia una nostra caratteristica che colpisce anche gli italiani e le italiane di oggi la nostra semplicità la semplicità dei nostri luoghi di culto del nostro approccio la sobrietà l'andare al sodo è vissuto come qualcosa di positivo noi naturalmente questo ci affatica molto perché come diceva un noto filosofo in televisione è meglio essere giovani che anziani sani piuttosto che malati ricchi invece che poveri io credo però che invece la testimonianza cristiana è arricchita dalla povertà è arricchita dalla sobrietà è arricchita dall'essenziale perché tutto ciò che è un pochino più sovrastruttura per la sensibilità degli italiani di oggi non appare positivo mi colpisce che Papa Francesco ne abbia fatto un focus della sua comunicazione perché evidentemente siamo in tanti a comprendere questa sensibilità che cambia e noi viviamo nella contraddizione una chiesa povera che ha molti mezzi tanto che una gran parte di questi denari vengono utilizzati da altri partner che non fanno parte della nostra chiesa e noi ci teniamo a dire non siamo una società filantropica una fondazione che offre denaro siamo una chiesa una chiesa cristiana che ha fatto questa scelta le consacrazioni pastorali noi quest'anno non abbiamo avuto consacrazioni pastorali non è la prima volta che accade noi abbiamo dei piccoli numeri abbiamo anche una capacità limitata di poter avere dei ministri e delle ministre retribuiti quest'anno c'è stato un diciamo qualche problema di ritardo nella formazione di un paio di candidati che sarebbero potuti giungere alla consacrazione per cui non abbiamo avuto consacrazioni pastorali ne avremo probabilmente una l'anno prossimo prossimo e quattro nell'anno successivo ma quello che avverto in generale è che nelle nostre chiese ma anche in generale nelle chiese protestanti anche in Europa non c'è una crisi di vocazione non ci sono crisi di trovare delle persone uomini e donne che vogliono dedicare la propria esistenza a una vocazione molto particolare come quella pastorale e c'è piuttosto da parte delle chiese la difficoltà a dare una risposta positiva a tutte queste richieste e i processi tra l'altro di formazione dei ministri sono diventati più complessi e delicati in tutte le chiese dalla cattolica alla protestante a varie chiese protestanti quelle anglicane perché se è vero che viviamo tempi difficili svolgere un ministero spirituale in tempi difficili è ancora più complesso richiede soprattutto una forza personale di carattere e spirituale notevole e non soltanto la conoscenza accademica o la buona volontà ci sono prospettive per una maggior unità delle chiese evangeliche in Italia noi siamo come dicevo una chiesa che è una unione di chiese non soltanto perché l'unione delle chiese metodiste e valdesi di questo paese ma anche perché in origine la chiesa valdese si è concepita da sempre come unione di chiese locali il patto di fraternità prevede il riconoscimento della chiesa locale con tutte le sue responsabilità in un patto di solidarietà e di responsabilità con le altre noi stiamo sperimentando in campo protestante in tantissime parti del mondo movimenti di unione istituzionale organica importanti diffuse ma soprattutto stiamo sperimentando una collaborazione fraterna che porta anche frutti importanti noi diciamo sempre che quello che conta è un'unione nella sostanza più che nella forma uno slogan tipico del movimento ecumenico come lo concepiscono le chiese protestanti parla di unità nella diversità cioè essere uniti nelle cose essenziali dopodiché si può essere anche diversi nell'organizzazione in aspetti secondari della testimonianza noto che Papa Francesco nell'incontro che ha avuto a Caserta con le chiese con la chiesa pentecostale della riconciliazione nel suo messaggio ha parlato di diversità fra chiese allora il primo punto il primo obiettivo è quello della fraternità condivisa del rispetto reciproco della fraternità condivisa poi la possibilità di percorrere strade comuni in progetti di servizio per il prossimo e se poi arriva l'unità organica e la condivisione anche degli aspetti della teologia e del pensiero che hanno nel tempo nei secoli passati diviso la famiglia dei cristiani fin dall'epoca subapostolica forse addirittura apostolica meglio però insomma noi principalmente ci impegniamo in questa ricerca di fraternità e di collaborazione reale perché comunque la missione l'evangelizzazione e il servizio per il prossimo sono il primo mandato che tutte le chiese cristiane hanno ricevuto dal comune signore grazie davvero moderatore Bernardini ci sono altre domande se non ci sono altre domande la ringraziamo le auguriamo un buon lavoro perché sarà un anno impegnativo io volevo anche ringraziare tutti coloro che si sono occupati di informazione ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato con il moderatore Bernardini quindi il lavoro dei colleghi di rbe.it Radio Bequite che tra l'altro sta mandando in onda anche questa conferenza stampa via streaming i colleghi di riforma punto it è di riforma settimanale eco delle valli valdesi l'agenzia stampa nev che ha curato tutte le conferenze stampa radio voce della speranza che sta trasmettendo il sinodo non in diretta ma quasi e la commissione informazione vi auguriamo un buon lavoro per chi volesse informazioni quindi a questa rosa di siti internet e giornali e settimanali sui quali può trovare veramente tutte le informazioni relative al sinodo buon lavoro buon anno a tutti grazie Bernardini grazie un applauso grazie a tutti